Signore, signori, Ercole preziosi! La mia regola è questa, quando tutto sembra essere perduto, bisogna rompere gli schemi, fendere il pubblico. Buonasera, buonasera a tutti! Quando senti che il pubblico si distrae, è distante, è lontano, ecco l'acqua e il punto, tac! Incassando un insulto in video automaticamente il pubblico li fa un trenato, perché se io manco comincio a leggere che mi fanno, è automatico che dopo due secondi uno si aggancia e mi dice, a stranzeo! Niki Renda! Donne, io sono come un medicinale, leggere attentamente le avvertenze. Ma che è il numero mio, quello? Qual è il pubblico a cui si rivolge? Il pubblico affinato, di una certa levatoria, di una certa stanza. Quello è il pubblico. Niki, ti voglio succhiare con un ghiacciolo. Niki, noi faremo una vita strana, fatigosa, bella, ma l'importanza è tornare a casa e trovare il calore della famiglia. Qua mi cambiate l'arretamento senza dimmi niente, a me mi sembra di camminare su un campo minato su sta casa. 400 mila lire. E sai che è? Se ricomprerà! Cazzo, 400 mila lire. Niki, guarda, copre... Scusate. Ma come prima al bar il giornalismo ha detto a tutti che sei un comico di stile, di cultura, di classe, e tu ha prima che trovi Giagliare e Ciasero. Manchi di stile! Devi essere brava a chiantarlo perché non si lascia prendere facilmente. Ancora con lo stile, eh? È importante lo stile. Ma chi ci crede che questo cosa non funziona? C'è la pubbalgia, c'è la pubbalgia! Cosa vuol dire il titolo? A febbraio, nei migliori scenari.